il racconto dell'allenamento con Adriano un giovane Adriano allenamento con Adriano una delle prime volte che sono andato ad allenarmi ero a scuola, quindi mi sono venuti a chiamare da scuola, dalla lezione mi sono venuti a chiamare il preside e mi dicevi andare ad allenarti e vado lì a allenarti era già verso la fine le cose non andavano bene e ci allenavamo allo stadio e facevano questi scambi e ti li importa e c'era sto tizio che io comunque seguivo la Fiorentina ma Adriano arrivava nessuno sapeva chi era, è partito il primo tiro e l'ho parato mi ha vibrato dalla mano al piede da quando andava forte e poi dopo mi ricordo c'era Torricelli che dopo quando si chiamava il portiere l'ho seduto e Torricelli che comunque aveva vinto tutto diceva io uno tira così forte non l'ho mai visto e dentro di me mi sono chiesto se tirano così forte io posso giocare io cambio mestiere grazie a tutti